e bibi di bobbi di bu e la bacchetta di di magia non c'è più se volete sapere dove è finita lasciate un bel mi piace perché è una cosa importante questa qui da sapere e iscrivetevi anche perché magari o non rimanete aggiornati e non sapete poi alla fine di tutto dove è finita la bacchetta e non mi piacerebbe l'idea di vedervi con il dubbio sul dove possa essere magicamente finita la bacchetta ma a parte tutto ragazzuoli oltre a questa cagata iniziale doverosa per stemperare degli animi che cazzo sono focosi e io come al solito ci tengo a ricordarvi che ufficialmente il mercato inizierà il primo luglio è vero che già puoi trovare gli accordi puoi dare le ufficialità prima di depositare effettivamente i contratti quando il mercato sarà effettivamente aperto però quello che vi voglio dire io è considerando che il mercato inizierà il primo di luglio e a voglia l'acqua che passerà sotto i ponti prima di avere una quadra definitiva su quella che sarà la juventus del futuro certo è come in un qualche modo ho detto nei due video già usciti oggi innanzitutto questa qui sarà la settimana decisiva quasi sicuramente per quanto riguarda il futuro di di maria e questo l'ho detto nel primo video che se non avete visto vi invito ad andarlo a vedere e nel secondo in un qualche modo ho fatto capire in modo chiaro e netto che se si sta dietro a tutte le notizie di calcio mercato non se ne esce dannatamente più e questa è senza ombra di dubbio una di queste anche perché poi magari il protagonista è di maria e in un qualche modo a grandi linee tutti quanti ci stiamo facendo la bocca un pochino buona nonostante comunque dei dubbi che sono legittimi sull'idea di vedere di maria con la maglia della juventus la prossima stagione ed è normale no che se magari esce una notizia come quella uscita oggi ecco di maria è saltato perché c'è il barcellona su di maria iniziano inevitabilmente le paranoie tanto è inutile girare ci attorno sappiamo benissimo tutti quanti come funziona certo è che però giustamente è normale sollevarsi dei dubbi innanzitutto partendo dal presupposto che ad oggi nulla è certo e ci mancherebbe altro poi nel corso della settimana senza ombra di dubbio sapremo bene o male di che morte morire nel bene o nel male con di maria o senza di maria e siamo tutti quanti d'accordo poi però per esempio no se mi si parla di juve beffata e saltato di maria perché è entrato di mezzo il barcellona io per forza di cose due domande me le devo fare più che altro in questo caso lato barcellona perché sappiamo benissimo tutti quanti quella che è la situazione finanziaria del barcellona e sappiamo che in questo periodo sta avendo difficoltà anche proprio ad ingaggiare dei giocatori a parametro zero proprio perché è in una situazione a livello finanziario considerando anche quelle che sono le regole della liga spagnola che attualmente non gli consentono di firmare dei giocatori neanche a parametro zero figuriamoci poi dovendo sborsare dei soldi per il cartellino che questo qui ovviamente non sarebbe il caso di di maria ma grandi linee la situazione quella è nel senso qui la juve beffata la juve beffata perché è entrato di prepotenza il barcellona e pare che di maria voglia pesantemente il barcellona però il barcellona ad oggi di maria non lo può ingaggiare e bisogna anche tenere in considerazione che a partire dalla prossima stagione a partire dal 30 di giugno torneranno a barcellona dei giocatori che hanno uno stipendio abbastanza importante uno stipendio proprio mica da ridere come per esempio quello di antoine grisman in attesa poi di eventuali evoluzioni a livello di mercato magari proprio con l'atletico madrid ma quello onestamente mi interessa fino a una certa si sta parlando in questi giorni anche del rinnovo di dembélé si era parlato di che sia parametro zero si era parlato di levandoschi si sta parlando adesso di di maria solo che se già con la situazione attuale il barcellona attualmente non è nella possibilità di ingaggiare che si a parametro zero è cazzo è il rinnovo di dembélé e ti torna grisman dal prestito è però c'è l'accordo con levandoschi si ma non lo può prendere adesso di maria è la situazione inizi un attimino a sfuggire di mano ed è per questo che io invito come al solito tutti quanti a star tranquilli quando si leggono notizie su notizie di mercato anche perché altrimenti all'inizio del calcio giocato che sta buon quest'anno e prima del previsto non ci arriviamo poi è normale bene o male di maria ha dettato le sue condizioni la juventus ha dettato le sue da un lato c'è chi vuole il contratto di un anno che è il giocatore e dall'altra parte c'è chi per motivi soprattutto fiscali vorrebbe un biennale con la possibilità quindi di usufruire del decreto crescita e vedremo che cosa uscirà fuori magari si può trovare una cosa di comune accordo va bene un anno facciamo un anno però ti diamo un pochino di meno per coprire in un qualche modo la cifra totale a livello lordo e questa può essere una cosa comprensibile poi ovviamente come al solito devi vedere anche quella che è la volontà del giocatore in questione se di maria in un qualche modo preferirebbe comunque la spagna il portogallo col benfica o il cazzo che volete voi detto in modo molto banale dopo lì ovviamente sarà un altro paio di maniche se al giocatore non dispiacerebbe venire alla juventus se alla juventus non dispiacerebbe e penso che questo qui ormai l'abbiamo capito tutti quanti prendere il giocatore si può comunque trovare una cosa di comune accordo poi dopo sempre i classici discorsi con quale testa verrebbe penserebbe alla juventus o solo ed esclusivamente al mondiale questi temi li abbiamo già toccati tante volte e a grandi linee sono sempre gli stessi banalmente tutto gira attorno alla professionalità del giocatore in questione e alla motivazione e in particolar modo poi per un anno singolo non dico che questo faccia tutta la differenza del mondo ma ben poco ci manca e ribadisco di questo avremo tempo mode maniera per parlarne e probabilmente anche proprio nel giro di pochissimo tempo considerando appunto che questa qui sarà la settimana decisiva per di maria nel bene o nel male però adesso che basti una notizia caso buttata lì su di maria il barcellona per i drammi di maria è saltato quando poi la situazione del barcellona è chiara e ad oggi di maria non te lo può firmare proprio per i problemi a livello finanziario che ha anche meno poi è normale che magari dai che dai che tiri la corda in attesa di di maria si fionda un'altra squadra disposta ad assecondare in tutto e per tutto di maria è probabile che ti salti per forza di cose ma appunto considerando che di giorni ne mancano molto pochi per capire che cosa effettivamente deciderà di fare la juventus con di maria non facciamoci la testa quantomeno prima del previsto e aspettiamo anche perché poi altrimenti è un massacro non se ne esce veramente più però è bellissimo come puntualmente basti che venga buttata lì così una notizia e che tutto saltato tutto finito per il barcellona che di maria fino a prova contraria in questa situazione attuale non lo può firmare di sarro strano io però o dopo ognuno c'ha le sue e ci mancherebbe altro voi ovviamente ragazzuoli fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza juve ciao Grazie a tutti.